Oddio, è ora di registrare il video di Math You Can, mi devo svegliare, devo fare il video dei Wake Up Exercises. Siete pronti? Seguite in questo nuovo video di Math You Can con gli esercizi da fare tutte le mattine per svegliarsi bene e in forma e senza dolori. E da qui iniziamo a mobilizzare le anche disegnando dei grandi cerchi, rilassando i piedi, rilassando il collo, andando quindi a mobilizzare l'anca, sentite proprio un massaggio che la testa del femore fa nell'acetabolo e questo vi darà veramente tanta energia, soprattutto chi deve poi camminare oppure chi deve stare tante ore seduto magari davanti a un pc. Respirate. Sentite che il nostro corpo dopo le ore, magari 8-7 ore passate al letto, è un po' un diesel, deve azionarsi lentamente, quindi se siete tra coloro che si alzano all'improvviso e magari si bloccano la schiena o il collo, beh, questi esercizi sono il massimo. Cambiando direzione continuate a respirare. Respirate tirando le ginocchia con le mani. E voilà, bene. Gambe in alto. Shakerate le vostre gambe, shakerate, 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 stimolando un po' il microcircolo. Molte volte i piedi, le gambe si gonfiano di notte. Vi è mai capitato di svegliarvi con i piedi gonfi? Molte volte i piedi, le gambe si gonfiano di svegliarvi con i piedi gonfiano di svegliarvi con i piedi gonfiano di svegliarvi. Grazie.